ciao bentrovati è martedì 5 aprile la parola che libera dal male nel nome del padre del figlio e dello spirito santo amen dal vangelo secondo matteo appena ritornati presso la folla si avvicinò a gesù un uomo che gli si gettò in ginocchio e disse signore abbi pietà di mio figlio è epilettico e soffre molto cade spesso nel fuoco e sovente nell'acqua l'ho portato dai tuoi discepoli ma non sono riusciti a guarirlo e gesù rispose o generazione incredula e perversa fino a quando sarò con voi fino a quando dovrò sopportarvi portatelo qui da me gesù lo minacciò e il demonio uscì da lui e da quel momento il ragazzo fu guarito questo vangelo ci fa ritornare con la memoria a tutti quei episodi di esorcismo che gesù compie nel nella sua vita pubblica quando il male ci possiede in piccola dose o in senso più generale nella possessione ci blocca ci rende rigidi non ci permette di essere sciolti nel gestire la nostra vita i movimenti sono bloccati non c'è più la nostra volontà il male paralizza completamente la nostra anima mi hanno sempre insegnato che è importante leggere il vangelo conoscere quello che gesù diceva e osservare quali parole lui utilizzava mi accorgo che se imparo e custodisco nel mio cuore le sue parole anche il mio modo di parlare con gli altri cambia mi rendo conto che quando riesco a fare questo le mie parole non sono più dure o cattive verso i miei familiari o amici ma si fanno dure solo per tenere lontano il male dalla mia vita se la parola di dio abita in me non riferisco agli altri scusate non ferisco gli altri con le mie parole ma ho la forza di scacciare i pensieri cattivi e distruttivi dal mio cuore abbiamo bisogno di scegliere te unico vero bene rigettando con decisione il male diciamo la tua parola signore abiti in noi la tua parola signore abiti in noi aiutaci a non scendere a patti con il male ma fa maturare in noi il desiderio di essere tuoi alleati nel costruire un mondo di pace e di giustizia la tua parola signore abiti in noi concedici di accogliere il tuo pensiero e la tua parola perché non agiamo di testa nostra ma maturiamo insieme a te i nostri pensieri le nostre azioni le nostre parole e le nostre parole per essere segni della tua presenza nel mondo la tua parola signore abiti in noi il signore sia con voi vi benedica dio onnipotente padre e figlio e spirito santo amen ciao a tutti un bacio e ci vediamo domani sera mercoledì 6 aprile domani ciao buonanotte